Vi voglio chiedere perché scegliere il Traldi Resort? Per quello che mi riguarda il Traldi Resort va scelto perché noi facciamo sentire i nostri ospiti come a casa propria ma con la privacy e il rispetto e la tranquillità che si vorrebbe sempre nella vita. Ma al Traldi Resort si mangia anche bene grazie agli oli extravergine di oliva, Classic, Lectia, Eximius e Atos tutti extravergine di oliva e conosciuti, premiati e venduti in tutto il mondo dalle caratteristiche organolettiche differenti in cui fruttato, amaro e piccante ci sono in maniera differente affinché esaltino rispettivamente ciascuno per le proprie caratteristiche i più disparati cibi. Sicuramente un posto da scegliere dove passare qualche momento indimenticabile dove degustare soprattutto un grande olio quindi signori io ringrazio Elisabetta Traldi e Vittorio Alfieri per essere stati con noi. Grazie ancora. Grazie a voi.